Siamo nelle mani di un branco di pazzi, sia in Italia sia in Europa. Siamo nel mezzo di una pandemia, ogni giorno ci sono migliaia di morti. Stiamo vivendo una crisi economica pazzesca con milioni di persone che hanno perso il posto di lavoro. E in questa situazione di guerra l'Europa cosa fa? Regala i nostri soldi ai migrati clandestini, Rom e persino ai turchi. Avete capito bene, l'Europa regala 6 miliardi di euro a 80 milioni di turchi musulmani perché vuole che la Turchia entri nell'Unione Europea. Insomma, un vero e proprio scandalo. Se l'Europa partorisce queste follie, a Roma ne fanno anche di peggio. Mentre l'Italia è in ginocchio per il coronavirus, il governo PD e 5 Stelle litiga per le poltroni e si scanna per spartirsi i soldi del recovery fund. Milioni di italiani sono precipitati nella povertà assoluta, ma Conte, Renzi, Di Maio e Zincaretti se ne fregano e danno vita al teatrino squallido del rimpasto di governo. Su due cose però l'Europa e il governo PD e 5 Stelle vanno d'amore e d'accordo. I porti aperti per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa e il famoso MES con cui l'Europa vuole mettere le mani nei conti correnti degli italiani. Il 2020 è stato un anno orribile, pieno di disgrazie e di calamità di ogni tipo. Speriamo che il nuovo anno spazzi via il coronavirus e questo governo di incompetenti che sta distruggendo il nostro paese.